Sono quasi 12.000 i pugliesi che oggi vivono in Gran Bretagna e il Regno Unito e al settimo posto tra i partner della Puglia per le esportazioni, più di 369 milioni e il valore dell'export pugliese verso questo paese. Oggi, dopo Brexit, non sappiamo più quale sarà il futuro di queste relazioni né come vivranno lì i nostri connazionali e soprattutto i nostri giovani. Lo rileva l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Loredana Capone, e detto in una nota della Regione, a margine di un incontro a Londra con circa 50 imprenditori e manager di origine pugliese. C'è grande preoccupazione tra i pugliesi che vivono in Gran Bretagna, aggiunge, per l'uscita dall'Unione Europea. Da cittadini europei adesso si sentono apolidi né italiani né inglesi né europei, mostrando apprensione rispetto all'esito del referendum e per come sarebbero stati trattati nel tempo restando lì. I pugliesi che risiedono nel Regno Unito da oggi si sentono diversi.